Buongiorno e benvenuti nel magazzino di Casa Foice Buongiorno Ho detto buongiorno? Lo rifaccio Buongiorno e benvenuti nel salotto barra magazzino di Casa Foice Quello che vedete alle mie spalle Da lì fino a quel fondo È una parte dei pacchi che ho ordinato negli ultimi tre mesi Alcuni ho voluto trattenerli per fare questo unboxing Alcuni tipo questo l'ho già aperto perché c'era all'interno qualcosa che mi serviva In questo unboxing vi farò vedere tantissime cose che magari vi verrà voglia di compare Perché sono alcune utili, alcune un po' meno Alcune mie passioni, alcune passioni che possiamo condividere comunque tra me e voi O in ogni caso cose che sono utili e basta Per prima di tutto vi dico che non so se vi farò vedere i pacchi qua in fondo Queste tre cose giganti Perché è tipo uno spoiler per un altro video Basta iniziamo col primo Uno, due Questo l'ho già aperto Che abbiamo questa micro SD da 256 GB Una tra le più economiche ma allo stesso tempo più veloce Quindi ho detto approfittiamola, compiamola Perché in tutti questi scatoloni ci saranno delle cose che avranno bisogno di questa memory card Questo pacco è l'unico di cui avevo bisogno Che ho utilizzato in altri video Che ho utilizzato per dare una mano a degli amici che facevano dei video È il nuovo Rode Wireless 2 Che è esattamente la versione migliorata del wireless Go 1 Che dovrebbe aver migliorato l'audio La distanza a cui riesce a ricevere il segnale E in più, semplice semplice Ci sono due microfoni di ricezione Quindi uno lo tengo io magari Ma lo tengo alla persona che fa il video con me Un'altra cosa molto interessante che è un pacco che ho già aperto E quindi non troviamo qui sul tavolo Era questo Che è semplicemente una calamita Ovviamente volevo dirvi che siamo quasi a un milione Lo dico in ogni video Ci tengo a dirlo spesso Anzi forse lo dico troppo spesso Ma semplicemente perché ho in mente uno speciale Bello cazzuto E spero che tutti quanti possiate apprezzarlo Qui cosa abbiamo? Ah! Ho preso tanti tanti lacci per scarpe di vari colori Sono tutti della misura delle Jordan Che dovrebbe essere 120 centimetri Perché ho preso questi lacci? Come sapete sono appassionato di sneakers Ormai da un po' di tempo Tra la volta parlando con degli appassionati Delle persone che comunque vestono Jordan Vestono sneakers Mi dicono Ma perché ogni tanto non cambi i lacci delle scarpe Proprio altri colori Cioè le abbini diversamente Cioè la stessa scarpa la puoi abbinare in modo diverso Tramite questi lacci Costavano poco Mi sono stati consigliati Perché la fattura è simile a quella dei lacci originali A proposito di scarpe A proposito di scarpe Qualche tempo fa nel video della collezione di scarpe Vi parlai di Lady Shop Tutti quanti facciamo shopping online Ormai è parte della nostra routine Sia dovuta alla quarantena Ma sia anche al fatto che è entrata nell'abitudine di tutti Prendere e aprire dei siti Dare un'occhiata Decide cosa comprare E ti arriva comodamente a casa Cosa fa Lady Shop? È un sito di cashback Faccio un esempio Dovete andare a comprare da Zarando Da Decathlon Qualcosa Vuoi andare sul sito Comprate E pagate l'intera somma Aprendere Lady Shop E controllando quali siti sono affiliati Puoi poter ottenere Dei cashback Diversi In base a Quello che ti offre il sito Esempio Dovrei spendere 100 euro da Decathlon Online Lady Shop ti offre Che ne so 5-10% di cashback Voi spendete 100 euro E dopo un periodo Vi verranno restituiti Quei 5-10 euro Sulla carta Voi direte Sono 5-10 euro Sono a spesa di 100 Sì Se non usate Lady Shop E non vedranno manco quelli Quindi conviene È come avere uno sconto ulteriore A quello che poi magari c'è Sull'effettivo sito Io oltre a lasciarvi il sito di Lady Shop Per il cashback Postato in descrizione Vi lascio anche un link Che vi porta a ristallare Un plugin Che ti permette Dopo di averlo installato Sul tuo browser Di vedere direttamente Quali siti Quando li apri Sono affiliati al Lady Shop Semplice E preciso Possiamo continuare con l'unboxing Emanuele scelite un fatto Vai Quale devo prendere Quello lì Questo qua È l'unico che non so che cacchio sia Perché è l'unico che forse non viene da Amazon Ma da GLS Potrebbe essere il problema Perché mi ha mandato qualcosa che esplode C'è anche scritto fragile Io l'ho appena lanciato Non vedo di cosa sia Ah ok È la GoPro Max Quella che vede tutta a 360 gradi Poi direte Perché l'hai presa? Perché dovevo girare un video con la Ferrari Quando l'ho anoreggiata E se avessi avuto questa Avrei potuto girarlo Super comodamente Non ce l'avevo Non ho potuto girarlo Quindi da adesso Dovesse succedere che anoreggia una macchina Dovesse succedere che devo fare un video in Tesla O qualsiasi altra cosa Ho questa Questa è una truffa Questa è una truffa stupato È palesemente vuota Senti Ma è sicuro che vuoto Cioè sto aprendo qualcosa di vuoto Guarda che mi sono comprato C'è la sua Amazon Prime Guarda che bello Correre da circa stare qua di fianco È lo stesso degli altri cappelli di Dragon Ball Che ho di là Dai Emanuele Lo vuoi questo rappello? Sì lo vuoi Sai dove lo puoi prendere? Sul link in descrizione Sempre con la mia Dragon Ball Queste sono due action figure Che si sono state mandate Come regalo Due a me e una Emanuele Che ha già unboxato È un regalo di ragazzi che ringrazio Di figure from Japan E Dragon Ball Legacy Italia Hanno fatto queste due action figure di Gogeta Super Saiyan Blue Del film di Broly E Veget Super Saiyan Blue Della saga di Dragon Ball Super Vi ringrazio ovviamente ragazzi Anche se l'ho già fatto Tipo un mese e mezzo fa Quando sono arrivato L'avevo già ringraziati su Instagram Questi due dovrebbero essere aperti insieme Dato che La mia collezione di scarpe Di sneaker Di Jordan Si sta ampliando Perché tra collaborazioni che sto facendo E comunque acquisti fatti da parte mia La mia collezione Si sta ampliando Emanuele si è accorto Tutti si è accorti Che sto facendo un piccolo progetto Per lo studio Voglio fare una stanza delle sneakers Che vedrete Probabilmente in un altro video Ho preso delle scatole per scarpe In plastica Perché se dovessi imprire una stanza Di scatole per scarpe in vetro Non si può fare Cioè se è ben antragata Quindi questo era il modo migliore L'ho prese Sia nere Che bianche Per alternare In base alla tipologia di scarpa Montiamone una E voilà Questo è un box Come vedete abbiamo Sia la versione nera Che la versione bianca Allora Sono due tipologie di scatole diverse Quella bianca Che come vedete Dà molto più senso alla scarpa La valorizza meglio Mentre questa nera La valorizzerà molto Molto meno Che diventerà molto cupo A meno che non metti tanti led Allora Dato che io precedentemente Ho già ordinato 13 di queste 13 di queste Ma queste Secondo me Non valorizzano la scarpa Farò il resto Tutte queste qua E le cambierò con 13 O anche di più di queste E quando faremo la stanza Con i led Tutta organizzata Con le scarpe Sarà figo Fareci un video dedicato Se vi va Vi lascio un like Per vedere con i video E scriverlo nei commenti Datemi anche dei consigli Su dove prendere i led Su come organizzarla Se avete l'idea C'è il box Commenti qua sotto Altro giro Altra scatola Qui dentro Ci sono veramente Tante scatole di scarpe Altre scatole Di scarpe Questo qui è L'ultimate box Di crepe L'avete visto sicuramente Da qualche parte Ed è semplicemente Un kit Per qualsiasi tipologia Di scarpa Per purirla Basta scarpe Vediamo questa roba Che è sicuramente tecnologica Però che c'è una batteria sopra Allora Abbiamo Un detonante per scarpe Questo è un altro caricatore Doppio Per la Per la GoPro Ne ho già uno C'è una batteria in più qua Perché ho preso un altro Per la GoPro 9 Perché ho preso un altro Per la GoPro 9 Che tra poco Unboxeremo Quando per esempio Ho fatto i video in macchina I video in viaggio Mi sono trovato Che ne so Devi metterli in quadro di qua Con la GoPro Un inquadro di qua Con la GoPro C'è una GoPro sola Mi do mette due Non posso C'è due in quadro di la GoPro Indolineate cosa ho comprato Sono alti lacci Di alti colori Commetto Almeno 20 euro Che qui C'è la GoPro 9 E indovino un po' Cosa c'è La scatola E la GoPro 9 GoPro 9 L'ho già unboxata in un video L'altra Questa è una scatola diversa Se sono sbagliato È la stessa C'è stata aggiornata la scatola Boh Ci sono i cavi Di ricarica Una batteria Due tipologie Di attacco E la GoPro 9 Questo qui È una cosa che mi è stata consigliata Su Instagram Quando sei pronto Ce la tiro fuori Sembra tipo Un libro Importantissimo Guarda quanto è grosso È in breve La storia delle sneakers Sembra un unboxing Dedicato alle scarpe Questo indovino cos'è? Una scatola di scarpe Cosa rimanga in camera? La multigabatta Ho preso Un media mod Per la GoPro 9 E un light mod Cos'è questo? Lo montiamo E ve lo faccio vedere Come lo apri Metti il modulare Come vedete La GoPro diventa leggermente più grande È stato aggiunto Il microfono Lo spazio Per poter aggiungere Una luce Come questa che lo metteremo Oppure un altro microfono esterno Abbiamo La luce Che penso verrà Alimentata D'educo Dalla GoPro In più c'è il diffusore Ovviamente Che top è? Visto che io E Emanuele Siamo fan Dei giochi da tavola Ho preso Ho preso un altro gioco Che è obbligo e verità È un gioco di carte Se fa di solito Sentite ragazze a casa Non ci giocheremo mai Sempre per la storia GoPro Abbiamo una batteria extra Più il suo caricatore doppio Per la GoPro Max Più una ventosa Con i vari attacchi Sia per cellulare Che per GoPro Un semplice Cavo USB-C Lightning Il caricatore per iPhone Con base USB Perché l'ho preso? Ce ne ho dieci Perché c'è sto coso? Dopodiché Dyson Mi ha mandato Il suo Pure Hot Plus Cool Che sarebbe Un depuratore dell'aria Aiuta a depurare l'aria A pulire l'ossigeno In più fa Caldo È freddo Con un condizionatore Soltanto collegato Alla rete elettrica L'ho comprato E l'avete visto anche Su Instagram Perché l'ho già unboxato E l'ho messo In garage Perché qualche mese fa In inverno Se è via per raffreddare il garage Raffreddare in inverno Si raffredda Si scalda Non so più parlare Per scaldare In inverno E per raffreddare l'aria In estate È utile È finalmente Un condizionatore portatico utile Basta ventilatori Questo È il futuro Lo lascio Ovviamente Lo so in descrizione Scalda le scarpe Scalda le scarpe Secondo te Qui Così starà Non so più cosa Che è in no box Indio Indovina Scarpe Scarpe Ma quante cazzo le ordinate In le Scarpe Anche le ordinate Non nemmeno Anche le scarpe Però Anche le scarpe No però è possibile Anche le scarpe Non posso farvi vedere Quella Non voglio farlo vedere Ti faccio vedere Cosa unboxiamo? Lo so Una cosa che mi è riuscito in tanti video Mi sono dimenticato a mettere la descrizione Vai Probabilmente l'ho fatto vedere in tanti video Ma non l'ho mai Messo in descrizione Così concludiamo l'unboxing bene Questo è il mio set di coltelli Preso da Amazon Potevo tranquillamente Prenderlo su un sito online Sul sito Magari più Costoso Da sceltoni Datumina World Blade Prende il più costoso O cose del genere Ma io questi li ho provati Li ho ordinati Costavano poco Insieme all'apposito Porta coltelli a calamità Cioè Costavano poco Sono buoni Vi lascio anche questi In descrizione insieme al loro Box a calamità In questo video avete visto Dove poter prendere i lacci Le scatole Le GoPro Il cappellino Scatole I coltelli Le GoPro Delle scatole Un profumo a scarpe Che va dentro Le scatole Dei lacci per scarpe Che vanno dentro Le scatole Spero ovviamente Che il video vi sia piaciuto Che vi abbia intrattenuto Che vi sia stato utile Anche il fatto Che ho voluto mettere In questo video Le t-shop Che ovviamente Vi lascio qua sotto In descrizione Che acquistando Da determinati siti Potete risparmiare Veramente tanto Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi qua sotto al canale Accendete la campagna Le descrizioni E se vi va Se volete Lasciate un bel like al video Noi ci vediamo Nel prossimo contenuto Che probabilmente Sarà qualcosa Inerente alle scatole Bisogna te le scatole Ciao